Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come al solito mi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un bel mi piace, attivate la campanella, così non mi perdete i miei nuovi contenuti e rimate sempre aggiornati, vi arriva una notifica sul vostro dispositivo ogni volta che pubblico un nuovo contenuto. Tutto quello che vedete è gratuito, gratis, free, quindi ci perdete pochi secondi e mi fate contento e soprattutto non costa nulla. Anche seguirmi su Instagram è gratuito, mi chiamo FrizzoFootball12 e vi aspetto anche lì. Di cosa parleremo? Vorrei fare un discorso più ampio, ma magari lo farò in un altro video, fatemi sapere qui sotto nei commenti, perché anche commentare è gratuito, il vostro pensiero e soprattutto se volete vedere un discorso più ampio sulla nazionale, italiana ovviamente. Io leggo tutti i vostri commenti ragazzi, se non stanno arrivando dei video, per lo stesso motivo che ho detto in altri video, io sto pubblicando i video con la connessione dati e quindi sto pubblicando video corti e quindi che purtroppo ragazzi non posso rimandare. Parlare della Nations League è già questo, arriverà in ritardo, per il motivo che vi ho detto prima. Nella Nations League devo parlare per forza e altri contenuti ragazzi, anche se arrivano con ritardo, possono arrivare in un secondo momento, il campionato è finito, quindi parlare dell'ultima giornata non è un problema, non c'è fretta, ma anche gli altri video ragazzi, più tempo insomma, più usciranno tardi, ma comunque anche più tempo per farli in un certo modo e farli uscire bene. Ci sono tanti video in programma, fantacalcio, come è andato, analisi di fine stagione, quindi con i dettagli dell'ultima giornata, pagellone, come sono andate le prediction, ci sono tanti video in programma ragazzi, quindi aspettate, solo questo vi chiedo, vi chiedo scusa, via Enten, non è una cosa che dipende da me. Purtroppo ho passato queste settimane a cercare un attimo di attivare la linea di casa, poi una volta lo sciopero, una volta problemi tecnici, purtroppo ancora non ho la linea di casa, ma è una cosa che succederà a breve, quindi vi chiedo di attendere e poi pian piano farò uscire tutti i video, è chiaro che cercherò di farli uscire almeno uno al giorno e così da recuperare. Non voglio far uscire questo video troppo lungo, l'ho già detto all'inizio, parleremo della Nations League perché la Spagna ha affrontato l'Italia, la nostra nazionale era in semifinale di Nations League, poteva raggiungere la Croazia che ha battuto la nazionale dell'Olanda, quindi ragazzi una grande vittoria quella della Croazia che come al solito viene, che in realtà ha vinto poi i tempi supplementari, però viene sempre sottovalutata come nazionale, un'ottima nazionale quella della Croazia, ha raggiunto la finale e noi potevamo raggiungerla. Si è aperto anche il discorso Mancini perché comunque è arrivato un'altra sconfitta, questo c'è da dire. Io direi di vedere prima il risultato e poi parliamo della partita perché credo che sia giusto veramente analizzare la partita nel dettaglio. Partiamo malissimo perché al terzo punto segna Ieri Mipino, giovane della Spagna, già comunque nel giro della nazionale da un po' di tempo, errori di Bonucci, ragazzi, è in realtà doppio errore clamoroso, perde il pallone e ne approfitta Ieri Mipino. Ragazzi, io sono senza parole perché è un errore da un calciatore della sua esperienza, non te lo aspetti, o meglio io me lo aspettavo, ma non perché parto prevenuto, parto con le mani avanti o perché non lo trastima nei confronti di Bonucci, io non lo trastima nei confronti di Mancini. Attenzione, io lo ringrazio e lo ringrazierò sempre per questo, per l'Europeo vinto, però per me andava cambiata la guida dalla non qualificazione mondiale, che è gravissima ragazzi, perché io penso e sono triste per bambini che non hanno mai visto un mondiale, non sanno nemmeno cosa sia, perché non ci ha partecipato la sua nazionale e di per sé questo è gravissimo, cioè per me andavano presentate, andavano rassegnate già le dimissioni dal tempo, adesso anche con questa dimissione i premi andrebbero rassegnati, ma di questo è il responsabile il CT, Mancini, che ha mandato a casa a Baschirotto, ha mandato a casa a Buongiorno che poi è tornato, non mi sto salutando, poi è ritornato per l'infortunio di Bastoni, a quel punto ragazzi Bonucci ha giocato, ha giocato da capitano, poi è stato sostituito dopo 45 minuti, ma l'errore gravissimo da parte di Bonucci per un calcio della sua esperienza, da parte di Mancini che non può convocare Bonucci, ma non perché sia scarso, ma perché semplicemente Bonucci, per quanto è il calciatore in rosa con più esperienza europea, non può essere convocato un calciatore che non gioca, e la sua squadra di Calabana e la Juventus ragazzi ha fatto la stagione per lo più in panchina, e non è una cosa possibile convocare i calciatori che stanno in panchina, non è ammissibile, ed è assurda questa cosa ragazzi, non transigo su queste cose che sono veramente cose banali ragazzi, ma come si fa a convocare un calciatore che non gioca? Io non me lo spiego, io capisco l'esperienza, ma pensiamo all'esperienza ragazzi, c'è anche Toloi, che è comunque un calciatore di esperienza, sicuramente l'esperienza che ha fatto, che ha Bonucci, non ha giocato quello che ha giocato Bonucci, ma ragazzi Toloi ha fatto una partita maiuscola, per me ha giocato benissimo Toloi, non ha sbagliato praticamente nulla, sostituito Bonucci è trovato Darmian, Darmian ha fatto altri danni, quindi non lo so, io fatico a trovare comunque calciatori che hanno giocato bene, però andiamo avanti perché poi in realtà noi all'undicisimo pareggiamo sul calcio di rigore, guadagnato da Zaniolo, che colpisce Lenormand, in realtà Lenormand la colpisce con la mano, ma la conclusione era stata di Zaniolo, Zaniolo il primo tempo l'ha giocato bene, poi si deve un po' aspetto, ha giocato Chiesa, altro calciatore che ragazzi nella Juventus ha visto poco il campo per l'infortunio, titolare, buttiamo il titolare, Re Teghi l'abbiamo lasciato in panchina, lì lasciato il titolare da Mancini perché era infortunato immobile e non l'ha fatto nemmeno subentrare, quindi altra cosa inspiegabile, poi c'è stato Frattesi, qui è stato annullato un gol dal ventunesimo, con il Valle ragazzi ho esultato come un pazzo perché è stravito per Frattesi, io credo che il centro campo dell'Italia sia fortissimo, indipendentemente da chi gioca, però credo che veramente far giocare Frattesi questa sia stata una scelta giusta, poi praticamente ha lottato tutta la partita, gol poi è stato annullato per fuori gioco, io era veramente di pochissimo, io non me ne ero accorto in diretta, ottima la partita di Frattesi, ha superato anche il gol in un'altra occasione, veramente un giovane che si è messo in mostra in questa stagione di Serie A e si sta mettendo in mostra anche con la nazionale e lo stesso Frattesi a fine partita ha detto mi sono confrontato con calciatori che hanno presenza in Champions e l'esperienza da vendere, giusto, paghiamo anche l'inesperienza dei nostri giovani, ma sono giovani di livello, quindi non mi spiego, mi spiego forse Zaniolo in attacco, non mi spiego Chiesa, perché per quanto Chiesa sia un calciatore di grandissimo talento, dopo l'infortunio non ci prendiamo in giro, non è lo stesso Chiesa che siamo abituati a vedere quello dell'Europeo, ripeto io penso che dopo l'Europeo si è chiuso un ciclo, andava riaperto un ciclo, svecchiando sicuramente, facendo anche un cambio sulla guida tecnica, cosa che non è stata affatta, ci sono ancora molta fiducia in Mancini, io concludo comunque con all'ottantattesimo la red di Oselu che fa vincere 2-1 la Spagna, subentrato, un uomo delle, dico nel finale, porta la Spagna in finale di National League in cui affronterà la Croazia, occhio, secondo me la Spagna non è imbattibile, ed è questo che vi fa arrabbiare ancora di più, perché la Spagna è una nazionale fortissima, è una corazzata, ma anche la Spagna ha cambiato tanto, non è la Spagna imbattibile di tanti anni fa, ricorderete quella finale europeo se non manerà dal 2012 in cui la Spagna si schiantò 4-0, si schiantò contro di noi a tutta velocità 4-0, che era però imbattibile a quel tempo, Spagna ha cambiato tanto, ha svecchiato, cosa principale, ha finito un ciclo e saggiamente ha cambiato guida, al termine di un ciclo ha svecchiato parecchio, è vero che loro forse hanno avuto la possibilità di svecchiare, mi viene in mente Gavi e Pedri, Gnale e Mipino, sono tutte comunque nuove leve di un certo livello, noi forse nuove leve di un certo livello non le abbiamo di quel livello, ma le abbiamo, non possiamo negarlo, l'ha dimostrato dell'Europeo Under 20, in cui comunque l'Italia è arrivata in finale, ha perso, recuperate il video se non l'avete visto il mio parere, però ragazzi, non è che non abbiamo un Under 20, cioè comunque dei calciatori giovani livello, ci sono assolutamente, e per concludere il discorso Mancini ragazzi, io, sapete, sono favorevole al cambio nella guida tecnica, vedo che anche molte altre persone adesso si sono convinte di questa cosa, c'è ancora chi difende a spada tratta Mancini, ci ha fatto vincere un europeo, ripeto, non lo levo, ma non può essere l'unica motivazione per confermarlo, perché il tempo passa ragazzi, il calcio va avanti, ed è tempo secondo me di fare un cambio in panchina, e vi ripeto, forse ne parleremo in un altro video, fatemi sapere qui sotto nei commenti, vi lancio una provocazione, che è quella che molti hanno detto, perché non chiamare spalletti al posto di Mancini, che ha lasciato il Napoli, vuole adorare il Napoli, Rudy Garcia, il violinista, e provocazione ragazzi, che lascio a voi, lascio a voi l'ultima, l'ultimo diciamo parere nei commenti, l'ultima parola a voi ragazzi, non agli Uruguaggi in questo caso, ma a voi, qui sotto nei commenti, a me onestamente è un'iscrezione che in realtà in discrezione non è, però è una provocazione che mi stuzzica particolarmente, anche se poi spalletti esperienza su panchine della Nazionale non le ha, però vi ripeto ragazzi, secondo me, il posto Mancini e chi, secondo me, potrebbe prendere il posto di Mancini, è un video a parte, e ne parliamo nel prossimo video, in un prossimo video, ci vediamo nel prossimo video, un salutone, iscrivetevi, lasciate mi piace, tirate la campanella in linea, commentate, è completamente gratuito, ciao, forza Italia, sempre!